Scusi signore, cosa fa con quel palloncino? Sa, ho mandato curriculum ovunque e nessuno mi ha mai chiamato. Adesso ne mando uno al padre Terno, sperando che almeno lui mi chiami. Problemi di lavoro? Sì. Ha mai pensato ad Adesco, società a lavori in Torinale? Dove si trova? A uno stacco da qui. Buongiorno. 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 Ma noi ci siamo già visti da qualche parte, io e lei non sbaglio. Sbaglia? Prego, si accomodi sulla tappa. Sì. Io sono assunta. Assunta? Da quando lei è assunta? Da sempre. Aspita, allora funziona. Lei come si chiama? Libero toletta. Che cosa vuole fare? Vorrei cessare di essere un disoccupato. Le dico in confidenza, lei nel posto giusto ha così un curriculum. Certamente, prego. Ora le spiego cosa faremo. Noi inseriamoci un curriculum nella nostra banca dati. E appena si libera un posto, le faremo sapere. Grazie, grazie. 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 Assunta. Scusi, è libero? Go! Finalmente sono occupato! Mi scusi. Beh, ma qualcuno libero ce ne sarà? No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.